Dopo l'ottimo campionato disputato nella scorsa stagione con la disputa dei play-off e le note vicende legate alla gara con le ricesi, il Palombaro può festeggiare questa nuova stagione dall'inizio perché il ripescaggio riporta questa società nel campionato di promozione che già aveva avuto modo di assaporare qualche anno fa con lusinghieri risultati. Il neo vicepresidente Palombarese Doc Giuseppe Giandonato ci illustra un po' questa nuova stagione, come si è mossa la società e soprattutto quali sono gli obiettivi. Buonasera, la società ha comunque deciso di lasciare il calcio perché secondo noi avevamo subito un torto non indifferente perché comunque non era una partita da sospendere, non c'era tutto successo, tutto quello che è stato scritto dai referti arbitrali. Per fortuna il nostro punteggio federale ci ha permesso comunque di essere ripescati nella categoria che secondo il mio modesto parere abbiamo meritato sul campo. La società ha preso come il mister Marco Cianci che penso che li conoscete tutti per i suoi trascorsi sia calcisti che da allenatore. La squadra è stata più o meno riconfermata quasi tutta con dei nuovi innesti, abbiamo preso Stefano Rutuno, un ottimo centrocampista, il ritorno di Loris Gian Giulio dal Fara San Martino, un portiere Scuola Lanciano fuori quota, Mirko Marrone, Scuola Miglianico, è venuto dal Miglianico dell'eccellenza, qualche altro ragazzo fuori quota e ci stiamo ancora attrezzando per poter completare la rosa e mettere a disposizione una squadra per il mister che comunque vorremmo ben figurare. Non abbiamo nessun tipo di pressione perché sappiamo forse anche che il camionale di promozione per il nostro piccolo paese può essere una forzatura. Però diciamo che si è ricreato un bel entusiasmo, abbiamo coinvolto una società nuova formata da 22 dirigenti, stiamo cercando nuove sponsorizzazioni, i ragazzi sono tutti ragazzi seri perché noi comunque vogliamo mantenere il discorso sia Fair Play che Coppa di Ciprina. Per l'ombaro sono due anni che vince la Coppa di Ciprina e l'anno scorso, adesso il 31 di agosto, ci sarà la premiazione per quanto riguarda il premio Fair Play. Questi sono i nostri obiettivi. Comunque pretendiamo serietà e rispetto e da parte dei nostri giocatori ma soprattutto anche dalla classe arbitrale perché comunque insegniamo ai nostri ragazzi l'educazione e il rispetto perché lo sport è anche questo.